Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per fare una roba raga, cioè veramente son gasatissimo Perché andremo ad utilizzare il double pump, cioè una meccanica di gioco, una delle più storiche di sempre di Fortnite, una delle più famose Che non è più tornata in game, cioè da quando l'hanno tolta non è proprio più tornata, non ci sono state neanche modalità dedicate, non l'abbiamo proprio mai più rivista Se non con qualche glitch, qualche bug eccetera eccetera Cypher ha fatto una mappa dove si può utilizzare il double pump in maniera un po' particolare Ora vedrete di che cosa sto parlando e alla fine del video vi spiego anche cosa cambierei di questa mappa perché è molto interessante Ma io vi chiedo sin da subito 5000 like per un torneo in questa mappa ragazzi Mi raccomando, un bel mi piace, organizzo una cosa fatta bene, quindi conto su di voi lasciando un bel like Soprattutto vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi, quindi contrate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato Perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo, grazie a quello di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Fatemi sapere sotto nei commenti se voi già giocavate ai tempi del double pump Oppure avete iniziato dopo, quindi avete iniziato dopo la sesta stagione del primo capitolo Mi sembra che intorno a quelle stagioni lì poi lo hanno tolto del tutto Io raga, giocando dalla season 0 praticamente di Fortnite da sempre, l'ho giocato, l'ho utilizzato e anche tanto ed era veramente una cosa pazzesca Poi a malincuore l'hanno tolto e non l'hanno proprio più rimessa E quindi dobbiamo ringraziare Cypher per questa mappa dove si può utilizzare Detto questo, vi lascio il video, buona visione Allora ragazzi, non gioco col double pump da 5... non c'ho il pump, sono anche morto Siamo morti tutti, bellissimo Rigenerazione tra... va bene, quindi è finita qui No, ok, adesso ci sono Oddio che bello! Oddio che bello e non bisogna neanche ricaricare Ma cos'è? No, ragazzi, sono emozionato Ed è anche la vecchia pinnacoli o sbaglio? Sì Oh mio Dio! No, ragazzi, è bellissimo Oddio Ma chi è qua? Eh vabbè, il signor Sinari che mi ha devastato Ragazzi, madonna mia che bello Madonna mia che bello ragazzi Cioè, ma è una roba allucinante Certo, non è proprio come... Cosa, Lolli? No, non è proprio come il vecchio double bump perché non c'è il gusto di dover switchare No, mi hanno rubato la kill Lolli, mi ha rubato la kill Gigi, sono in kill feed Hai fatto 3 kill insieme 8 kill Io no, io ne ho fatta una sola Allora, non è proprio come il vecchio double bump perché non c'è il gusto di poter switchare Cioè, ti switcha da solo Però, però ragazzi, è la stessa sensazione Tra l'altro, la maggior parte delle persone che stanno giocando qui con me oggi non l'hanno mai provato Ma Lolli sì, tu Lolli l'avevi già provato Io sì, vabbè, Gigi, gioca dal season zero, bellissimo Dal season zero Non c'era nessuna kill, Anna Sì, 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 lo so, lo so, lo so Quando non c'era ancora il pass Comunque mi viene da ricaricare l'arma ma è sempre caro No, ok, ho rubato... Stavolta te l'ho rubata io, Lolli, la kill e t'ho anche ucciso Madonna! Che tripla kill che ho fatto Cosa ammazzi, Gigi, non si deve ammazzare su questo gioco Come non si deve ammazzare? Chi è primo, scusate Chi è primo non lo so Non me lo fa vedere, classifica Tu sei primo Io so Sto lì però, sto lì Io continuo a spawnare lontanissima prima che arrivo Eh, io pure Sto di qua anche se... Oddio No, 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 mi salva saluti Madonna, un po' che casino L'audio è un macello Oh mio Dio Oh, comunque mi ha ammazzare solo Condor Oddio Ehi, l'ho ucciso Condor Condor, vieni qua No, no, no Aia, 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 aia Morto un altro Morto un altro E io non so quante kill sono in realtà Morto un altro Vabbè, un altro ancora Qua c'è qualcuno? Oddio, un Nabbo Dove vuol dire un Nabbo, povero No St'ha ucciso Ma no, è la Serena, al cavolo Pensavo fosse Gigi Ma no Oddio, che bello Il Nabbo l'ha fatto 110 E poi l'ha fatto volere All'allena Madonna Di nuovo in feed Eh, vabbè, mi hanno distrutto Allora Devo dire che è abbastanza incasinata la mappa così, eh Cioè, viene fuori un casino Anche perché tipo nessuno Madonna Madonna, Bartolino Che cattiveria mi è venuto a spawnkillare praticamente Bella, Serena Allora, il primo che arriva a 30 kill vince Ma è tipo la cosa più bella, raga Che io abbia provato Negli ultimi due anni di Fortnite Io sarei tutto il giorno così a giocare Non sto scherzando No, no, letteralmente Aia Sì, vabbè Che è sinari Eh, sì Eh, vabbè Però, raga, ma tra l'altro I danni del pump Non sono un po' tipo pompati Cioè, sto facendo un botto di danno Sì, sto a fa un botto di danno io col pump Comunque Potevano far partire con più mazzo, secondo me Gigi, è troppa gente Gigi, Martuno Ti voglio uscitere io, Lolli Sono io No, ti ho ucciso l'altro Condor sempre Che casino Che casino Che mai ci metto vent'anni per avviare Che casino Mi sogno di ammazzare Serena Uno vino No Ma perché? Dove sei, Serena? Dimmelo, dimmelo Dimmelo che ti snappo Dimmelo No Io non faccio una kill dal 15 di sotto Eccola, eccola, eccola Eccola È Serena, è Serena, è Serena Mi sono incastrato Ho mangiato Serena Sta snappato, amore Sì Sta snappato Ti vedo, amore Mi vedi? Mi vuoi pushare? No, però ti ho visto pure te Spawni lontanissimo Eh sì, te l'ho detto Oh, vabbè Ma chi è questa bella bimba? Gigi, non ti Ma guardate, oh Mi devi andare a killare Ah, io sono uscito un botto nella classe Ma io tipo non killo da un quarto d'ora Borto un altro No Eh, ah, muore E ho proprio appena finito di fai dare con Bartolino Oh, 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 oh C'ho uno qua a sinistra Ma perché a me ogni tanto mi viene da ricaricare, tipo Cioè non sto solo lì a sparare Sì, pure a me Mi viene da ricaricare E perdo tempo Invece è sempre carico Allora C'ho uno Oddio Ma stavolta ho fatto solo 24 però, eh Gigi, mi mancano 4 kill Oddio Già, già sei arrivato a 30? Sì, 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 Gigi Ma neanche in 5 minuti, praticamente Sì, sì, Gigi Troppo semplice Un mostro Troppo forte Troppo forte Però potevano fare che lo spawn cambiava sempre, eh Potevano fare un po' di migliorire Sì, questo è vero Un piccolo messo Sì, no, per cattro Sì, è questa bella bimba qua Becco sempre tutti uguali Ah Gigi, me ne mancano due Gigi Io sto continuamente morendo No, me ne manca una T'ha ucciso T'ha ucciso Condor Mi ha ucciso Condor Sì, è tipo la sesta kill che fa su di me Eccolo Di vedo Gigi È appunto la vittoria Gigi No, mi potevi far fare almeno l'ultima kill Lollino Va bene Allora, facciamoci anche il prossimo round Ok Ma perché spawno con 30 kill? No, a me me la to Ah, sì, è vero, 12 Però nella classifica siamo a zero Guarda, guarda Ellie Che è già partita Niente, sto matto Mi ha ammazzato Ok, va bene Comunque bisogna tryhardare troppo in sta mappa, regà 33, ok, perfetto Oh, aia Aia tantissimo, aia proprio Aia tantissimo, aia Allora, secondo me dovrebbero Ah, eccole i cambiamenti che farei a sta mappa Innanzitutto non farei tipo il primo arrivo a 30 kill Ma farei semplicemente a battaglia reale Tra virgolette Cioè, tu killi, continui a vivere Muori e aspetti il prossimo round Così è troppo un casino Cioè, così è veramente troppo un casino Gigi, ma non trovo persone Mi stanno tutti contro Ma dai Ma solo perché ho lo zaino di Balenciaga Madonna Io ho fatto appena una doppia kill devastante Madonna mia, ragazzi Sto, non so Sto devastando di una classifica Sono primo, infatti Sono primo Ma secondo me sta mappa rischia di diventare la mappa più bella di sempre Se fanno queste modifiche Eh, a me si rinca No, si rincava davanti ai miei occhi No, si rincava il mio mondo senza di te Non è vuoto Ok Va bene Anche senza di me, vero Lollino? Eh, continuiamo a giocare per fuori, grazie Eh, va bene Niente, mi sento preso Aia Aia, c'è un altro di qua Me l'ha rubato Me l'ha rubato e mi ha pure killato Mannaggia la miseria No, no, ragazzi Oh dai, che fastidio Tutti contro di me Ma guardalo come piangono Sì, non è giusto Sono snappi Certo No, me l'hanno rubato Eh, vabbè Mi hanno pure rubato la kill Cioè, secondo me Riuscire a fare Una partita Senza dover pushare così Cioè, tipo una partita Dove magari camperi un po' Ti nascondi Cioè, le cure È molto più realistica Così invece Cioè Boh, non c'è gusto Non lo so Non... Ma in tutto ciò Lili dice che ancora è ferma Nessuno l'ha trovato e è ucciso Bene Ma come no? No, ok Ma che... Oddio, no Pensavo ce ne fosse un altro Chi c'è qua sopra? Nooo Mannaggia Mannaggia Niente Io adesso sto spawnando Proprio dall'altra parte Rispetto a dove c'è il fight Praticamente Cioè, ci metto un quarto d'ora Ogni volta a venire a ripusciarvi Ok, ucciso Oh, bravo Chi è questo? Amore! Chi è questo? Amore! Ma hai fatto un kill di fila Amore, mi spiace Eh, io... Io ci stavo andando vicino Ah, io mi devo fare una rampa qui appena esco Così da poter pushare Su... Oh no, niente Sono caduto No, 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 no Aranix ti banno, eh No! Eh, vabbè Ma tutti dall'altra parte partono Io sono completamente dall'altra parte di pinnacoli quando spawno rispetto ai fight Mi dispiace, Gigi, mi dispiace Mi dispiace Che pizza! Ecco, vedo qualcuno qua Ah, mi sa che è serena! Ok Scusa, amore Oh, no, no, no Sì, Nari, sì, Nari Sì, Nari Sì, Nari Una golfata in testa No, ha fatto il giro Eh, vabbè Allora Ma poi ribadisco Almeno cambiare gli spot di spawn No, me lo rubano quello Me l'ha rubato un lino uno A me mi rubano kill da mezz'ora Madonna, è anche il kill feed No! Ah, ok, non è Gigi Eh, no Io sono morto già Allora, ok Ok Ma dai! Ma da dietro! Ma perché sempre così? Niente Ero primo, ragazzi Ero primo Sono tipo quinto, sesto No, che è questo? It's... Zelli, ti banno I zelli Che zelli Sì, zelli, zelli Sì, Nari a 21 No, no, Sì, Nari Calmati, calmati Ciao, Lolli Vabbè Eh, no, niente Un altro rubato Questo me ne ruba un sacco È Condor Me ne sta rubando un sacco, Condor Vedi, vedi È proprio un... Ruba tutto Ok Oh, mio Dio Fermi tutti Oh, mamma mia Questa è bella kill Questa, raga Oh, mio Dio Chi mi ha chiuso? Sì, Nari Maledizione Però almeno ho rifatto un po' di kill Dai, sono a 18 Oddio Oh, no, 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 no No, me l'ha rubato di nuovo È sempre Condor Ma me l'ha rubato Ah, no, è Matteo Questa volta è la mia Va bene, ok Ma c'hanno la stessa skin Allora può essere che anche Matteo Me l'ha rubato un bel po' Maledizione Amore Così alle spalle Sì, sono appena rinata pure io Ah, sei appena tornata Eh, guardala, guardala Che subito mi spara le spalle No, no, no No, come l'ho lasciato Dai Ma come mi ha preso Vabbè No, 175 No, Matteo Ti ho fatto un G6 di Wugabugabug e è andato male È andato malissimo Madò L'ho Dove sto Gigi, sono spawnati in aria Come si è spawnati in aria? Sono spawnati in aria, arrivo Oh, bella Matteo Non ho il pompa Gigi, non ho il pompa Che vuol dire non ho il pompa? Gigi, mi sei buggata la mappa Eh, vabbè, amore mio Vabbè Io stavo lì tutto tranquillo Gigi, questa partita mi è stata sabotata Ma c'è qualcuno in volo, infatti Ti vedo in volo Eh, sono io Ma che cavolo stavi facendo? Non ho più il pompa Volevi volare Ah, niente, ragazzi Ora è giunto quel momento di vincere il secondo round per Lolli Come secondo round? Ah, vabbè, perché ne hai vinto uno Eh, certo, Gigi Io sono già avanti Ok, no, perché è il terzo round E sarà anche l'ultimo, tra l'altro Vorrei avvisare la gentile che è in tela Lolli, ti vedo Gigi, vieni qua, bella bimba Uno No, no, non mi ha vintato dietro Sinari Oh, sì Let's go No, dai Ma non moriva Condor Cioè, nel senso Cioè, non moriva Va bene, ok Comunque, mi devo indicare per il round di prima Dove sono partito benissimo Madonna che kill qua No, Sinari Maledetto No, ragazzi, ci sono tutti contro di me Non è possibile Guardalo come piangono Sono che sei il più forte, Lollino Sono che sono un pesciolino indifeso Cioè, dai 37, 42, 77 61, tombola No Eh, vabbè Eh, vabbè Oddio Di poco Io ho un punto Devo per forza salire Per scavalcare, per sponare E mi urta Perché ci metto tre anni Ma più che altro perché dipende pure da dove si sposta il fight Ma come? 175 Eh, aia 33 Ok, l'ho ucciso però Let's go Dunque, il segreto è rubare i kill Purtroppo Ciao, Lolli Gigi Ciao, Lolli Dai No, ma da dove è arrivato questo? Dai Ti ho fatto 170 Eh, let's go Ok, che qua 31 Uno No Ai, 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 ai Chi è primo? Sono Sesto Cioè, sei scarto, Lolli Hai ragione, Gigi Devo impegnarmi No, dai Questo non è morto Ma come non mi arriva? Mi è venuto al C, è uno da tanto Maledetto Il curo, azza, qualcosa Dunque, il problema è che Spawnando sempre nei stessi punti Si vengono a creare sempre le stesse situazioni Cioè, tipo, io cuscio So che c'ho quello dietro So che c'è uno davanti Quell'altro che arriva da destra Cioè, eh, sì Diciamo che è molto migliorabile Le mappe Anche se però io non essendo un creatore di mappe Non so effettivamente fino a che punto Alcune cose si possano fare Scusa, amore Gigi, ho una domanda? Sì Cosa ne pensi se succede questo? Cosa? Mi ha ucciso un altro, Lollino Mi dispiace, ti hanno rubato una via Ti stavo sorterizzando Eh, tipo, io so che mi spawni davanti Potrei venire a ucciderti adesso Eh, sì Siamo rinati insieme Eh, lo so Infatti è quello il problema Ma come so che per esempio Bart mi rinasce un po' Più davanti a destra Ok No, no No, more, more, more Ma poi to Ah, no Sì, ti ho killato Perché non mi ha ridato la vita? Rip È vero, a volte non la dà Forse mi hai killato contemporaneamente Che si è morto Da Ellie Non lo so Io so solo che però Forse sì Me l'ha tolta Appena l'ho guadagnata Me l'ha ritolta Ok Ah, te la devi dare proprio tutta E ti dà anche 50 materiali Sì, sì, te la devi dare tutta Sì, sì Ah, vabbè, ragazzi Eh, eh Che fastidio Niente, niente GG Non implechiamo il signore Oh No, me lo rubano Ok, no Sì, me l'hanno rubato E quindi io Un killo lui Porca miseria C'è Matteo Madonna mia, Matteo Mi hai distrutto Mi hai distrutto psicologicamente Povero Lolli Devo andare a Lurda Deve pagare lo psicologo adesso Eh, va Madonna Quanto danno mi ha fatto Ma a me per un attimo Ha riequivaggiato il piccone Ho sparato E anziché ricaricarmi il pump Mi ha messo il piccone Bellissimo Allora Io Sto cercando di fare un'altra kill 44 Non ho più mezzo No, amore Dai, però Non così cattiva Io vorrei questa mappa Ma con lo spasso Eh, vabbè Con lo spasso Niente, ha vinto sinary Quindi due sinary E uno duro lì Eh, mi dispiace Ma ha vinto sinary Eh, niente Sarà per la prossima Allora, raga Mappa molto divertente Anche perché Non avevamo mai visto Una roba del genere Negli ultimi anni Su Fortnite Cioè, praticamente Da quando avevano tolto Il double pump Non l'abbiamo praticamente Più visto Se non grazie a qualche Glitch Qualche bug Che c'è stato Magari negli ultimi anni Ma nulla di serio Quindi Complimenti a Cypher Perché appunto Il suo team Ha creato Questa mappa Però secondo me Ci sono delle migliorie Da fare assolutamente Perché dopo un po' Ti stufi di giocarla quasi Si, sei gasato Che pushi Col double pump Quello che vuoi Però non ti viene ricreata Una situazione real In game Quindi innanzitutto Serve cambiare lo spawn Se si vuole fare A modi rissa squadre Quindi dove c'è Un limite di kill Ma dall'altra parte Io in realtà Consiglierei più Una battaglia reale Quindi effettivamente Dove 16 persone Stanno lì E l'ultimo rimane vivo Vince Come una zone wars Dove in base A dove arrivi Alle kill che fai Ottieni dei punti E scale o meno La classifica Secondo me È la cosa migliore Altra cosa da fare Però lì credo Che ci sia proprio Un problema Alla base di epic Quindi credo Non si possa fare Sarebbe quello Di avere il doppio pump Veramente Cioè la cosa bella Del double pump È che si L'hanno sempre descritta Come una meccanica devastante Ma non era facile da fare Cioè non era così facile Sparare Switchare Sparare Switchare Sparare Switchare Sparare O meglio Sì una volta che prendi La meccanica E la fai tua Ce la fai Ma è molto complicata In realtà Calcolando che ad oggi La maggior parte Dei giocatori di fortnite Ai tempi Non giocava E quindi non l'ha mai potuta utilizzare Era molto carino Secondo me ricreare Proprio la meccanica Però lì credo Sia proprio un problema Di epic Che non permette di farlo Ringrazio ovviamente Tutti i partecipanti Signori Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGY Tutto attaccato Al negozio oggetti Di fortnite Fondamentale Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Per altri video Magari sul double pump Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi